Si chiama PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, la cui adozione da parte delle città metropolitane è sancita da un apposito decreto dell'agosto del 2017. Proprio la città metropolitana è l'ente competente per la sua redazione e approvazione. Si tratta di un piano strategico di medio e lungo termine che dovrà essere aggiornato ogni cinque anni, essere coerente con la pianificazione territoriale per seguire obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Il piano è stato avviato dalla città metropolitana di Torino durante un primo incontro che ha avuto luogo l'8 maggio presso la Sala Consiglieri di Palazzo Cisterna a Torino. Hanno partecipato amministratori locali, tecnici e esperti in materia. Il processo per arrivare alla sua definizione è approvazione piuttosto complesso e articolato. L'intercompleto si svilupperò attraverso diverse fasi con un percorso partecipato che prevede il coinvolgimento del territorio a partire dalle zone omogenee, stakeholder, fino ai cittadini. Il PUMS è un piano strategico di medio e lungo termine che viene predisposto su un orizzonte temporale decennale con la finalità di migliorare sul territorio la mobilità e i trasporti. A livello italiano sono le città metropolitane gli enti competenti per la redazione del PUMS e anche i comuni e le associazioni dei comuni al di sopra dei 100.000 abitanti. La città metropolitana di Torino avvia ora il suo processo di redazione del piano con il coinvolgimento del territorio e in particolare partendo da quelle che sono le zone omogenee. In modo tale da coinvolgere le zone stesse e i comuni in tutta quella che è la costruzione del quadro conoscitivo del territorio, l'identificazione delle criticità, la condivisione di quelli che sono gli obiettivi del piano e la scelta successivamente di quelli che sarà lo scenario di piano con le relative azioni. Ci sono dei progetti europei in cui il Politecnico è inserito e tramite il Politecnico anche il Comune di Torino e anche 5T come ente partecipato del Comune di Torino stanno partecipando. Quindi l'idea e il ruolo del Politecnico è anche quello un po' cercare di fare da tre d'union fra quello che si sta sviluppando in ambito europeo, quelle che sono le migliori pratiche a livello europeo e quello che si può realizzare nell'area metropolitana di Torino.